Tu come al solito si riesci a buttarci in occhio che io posso solo guardare da cellulare ma solo una volta in un tanto quindi può risultare difficile Allora io sul gruppo abbiamo avvisato ok andiamo di aprirla da qui Dov'è 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 non c'è ancora però io mi vedo in live Ok Optimo Così poi magari sistemando questo in teoria se lo abbassiamo un po' magari gira meglio anche Apex. Dovrebbe. Dobbiamo poterci meglio poi. Sì sì sicuramente. Vabbè. Fa molti giorni sono stato molto incasinato quindi sono riuscito solo appunto a esserci la sera e fare lo stream direttamente. Vabbè. Almeno insomma si stream. Il fatto che c'è il comic con le Twitch con la voglia di andarci è tanta mi piacerebbe andare sì. Ma non ci puoi andare a me fa? È difficile organizzarsi in poco tempo poi comunque i costi possono elevare da un momento all'altro e ora con ora non penso di riuscire a organizzarmi. Vedremo dai vedremo. Vabbè. 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 gaei. Vabbè. 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 L'ha. A volte stream con la webcam Ma altre volte no Perché magari dipende da dove si trova Perché spesso si trova in postazioni lì dalla Blizzard E quindi lì magari ha possibilità di farlo A casa no Perché magari non ha la webcam Non so Perché magari passa gente in casa Faccio un esempio stupido E quindi Cioè non significa che non si va più intrattene la gente Però Mi sa che devo andare a ieri Vabbè non sei obbligato Ho riscaldato la mia Sì faccio Faccio spari Vabbè C'è la noira Eee Sai che bello Il nuovo buffa Genji Deflecti il grab Grabi tu Rodog Tutta una roba Deflecti il grab Eh Deflecti il grab Di Rodog E tu grabbi Rodog E' un nuovo buff insieme Tu grabbi Rodog Ma non esiste Questo buff l'ho inventato io Ah Sarebbe Sarebbe Un mega buff Credibile Oh Oh Eh questi sono belli uni Bravo Bravo dai Non le ho da dire Bravo bravo dai Che la conceda Che la conceda C'è Bob C'è Bob Eh Esci dalla stanza Sì sì no Io sto bene Io sono safe Forse tu Buono Volevo usarla ma In un posto orribile L'ho usata Ora Grazie Let's go No dai Bring it no Drago ci passa attraverso Ma beh ma Bring it dai 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 Fai la persona seria Ce la faccio Non ce la faccio Arrivo da te Arrivo da te Eh Ci stiamo Avviando la pelicula Vicendo Good Vabbè L'ha fatta Reaper Fammi vedere Se l'ha fatta Reaper Sì L'ha fatta Reaper L'ha fatta Reaper Sessere lootbox Senti Lootbox Tieni Tieni Dalle ma stai buttando l'occhio sulla stream ogni tanto se più che altro sto guardando sto facendo un test anch'io sui nuovi settaggi sto guardando tutte le due comunque ma fra adesso non ho visto problemi da te vabbè ci sta ancora magari oddio comunque ripeto magari abbiamo beccato un punto in cui c'è stato un lagghettino può darsi pure che l'ho beccato io ma vabbè dai perché io ho guardato in diversi punti e mi è sembrata strada mi è sembrata stabile poi anche pierre ieri sera poi ci siamo sentito con la live e mi diceva che è andata bene andava perfetto e quindi non mi sono allarmato più di tanto qua devo modificare qualcosa se avessi la possibilità di trasporre tutto da obs su stream mi passerei direttamente lì e lo farei con la nuova codifica come dici tu però ora come ora non posso perché devo fare un sacco di spostamenti tutte le cose qua le fonti le c'è più che altro non ho molto tempo in questo periodo no sì sì l'ho capito questo oddio scusate oh due healer bello ah io ero un attimo occupato non ho visto ah buono ah tre healer ottimo tienili tienili che vinciamo tenetemi che si vince vai oh fuck dude non ti vedo da lì sei oltre fucking junk rat bella salve sbas bella come va ci stiamo scaldando un pochettino che mi dici di bello via del troppo oh lol mi sto confondendo tantissimo non so come giocare wow siamo tre healer vado pure io il quarto healer e la figlia vuolì oh uccidiamolo per favore devo caricare sempre quando c'è più soldi ma è abitudine ma è abitudine impatemi impatemi 100 punti con un'oretta di game aia aia ah preso scusa ah ah buono buono avevo letto tipo avevo letto perso scusa buono 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 eh va bene quello che spero di fare anch'io magari non 100 ma mi accontenterei anche di di prendere quelli persi ieri cazzo dell'uomo 4 giudici non ma stiamo Sono pronto, sono pronto, eccola Eh vabbè Ah, senti Eccolo, è lui, è lui Come on, ormai non sarà più lui Nooo No, io prego, io prego Dude, dude, una kill dai Dai Dai, Junkrat, Junkrat Vai Ah, questa storia, colpa di Enzo È stata colpa di Enzo, dai che mi facevo la video of the game Infatti l'ho fatta io Fammela vedere sta bocce E poi può vedere Eh, Svass, ti vuoi unire? Vabbè, ho detto che hai fatto già 100 punti Giustamente Mi premerei anch'io, effettivamente Beh dai, ho fatto molto di meglio questa partita Vabbè Eh, Svass, se ti vuoi venire Andiamo Sennò Ci premiamo in due Tranquillamente Che è successo? Sette, dove sta? No, ho fatto di troppo Cosa? Ovviamente sto facendo Una cacata Ah, devo vedere di ridurre il tempo comunque tra lo stream e la cosa Quello di cui parlavo, ti ricordi tempo fa? Dove abbiamo detto che ci conveniva Se è possibile ridurre anche la latenza dello streaming Il tempo di risposta Dipende da te Puoi farlo come non farlo Eh, voglio giusto fare una prova Al prossimo stream Vediamo cosa guadagno Come si vede la stream Se guadagno un po' di tempo Di delay Se riesco a cociare un po' di delay Va bene Ok, quindi Quindi che favo? Siamo sul Discord di ieri Piazzco Intanto starto Start, start Start Vedi, vedi Sero lei Ma sbaglio Trovata Trovata E per your defenses Che bello Lì sta piccando Gold È proprio il massimo Vai svaff So che tu giochi DPS Che facciamo Ne prendiamo tre No, perché quanti ce ne sono Eh, ce ne sono già due Scusi, scusi Eh, gioca quello che vuoi Non ho visto Vabbè, no, perché io me ne frego Quelli che giocano Anche se ne giocano quattro Io ne vedo due Uno Ciao 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 Sicaria Let's go Io con Reinaldo poco Posso andare a pinnare fino alla loro base E sperare di uccidere qualcuno Mentre io muoio Quello sicuro Ho rotto una chitarra ragazzi Mi sento un vandolo Crazy Che c'è qua Quale è il problema Colpa di Enzo Mi arroccio una chitarra Ah C'è qualcuno che mi vuole buttare giù Ah, no Alla Che c'è qua? Mi attacca Taya Che c'è qua? Me ne v presence Il funzionale Disto Un'altra anska Di Dietro il Reaper Forse Possiamo lo shield Raga, dobbiamo scendere C'è una cosa che non si voleva fare E non c'è solo che si può fare Vabbè, dai E devo passarli da dietro Continuo, continuo, continuo Bravissimo, bravissimo Io? Certo che continuo Sto scherzando? Quello è l'ABC di questo gioco 3, 2, 1 No, non c'è nessuno in chat Eh, c'ero io ma sono uscito No, sì, no, no Andavo negli altri perché tu comunque puoi sentirmi qui Invece Ando Sto spaccando questo per Rain Perfetto, Rain non è uscito No, non c'è nessuno in chat No, vieni, 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 vieni Buona Nice shutter man Grazie Ero proprio nel punto Più utile per quello shutter perché ero nascosto E me li sono mangiati da su Arrivano Sì, 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 certo Sì, mi fanno un cazzo Mi voglio che partino Barcomondo Perché Bannaggia, non mi è partito lo shift Mi è confusi, mi è confusi, buona, buona, buona Non mi è partito lo shift, raga Corri Ma troppe volte succede sta cosa, non mi piace però, eh Premo lo shift e non parte la bomba Questa sera meccanica, eh Forse anche a questa parte non va molto bene Oh Dark, vuoi fare una cosa bella con me? Eh, se ti trovo, sì, dove stai? Qui, 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 qui Dai, ti prego, ti prego Dai, togli me, non so di su niente Eh, eh Eh, se lo so, ma hai angaggiato prima lui, te La farò da solo La prossima fight Ma che prossima fight? Sono già in engage Così Non è servito, sti cazzi Sei solo, sei solo Beh, behind the payload Mission is half No, è solo Oh, dio Dai, che lo ricarico Si, si, si Perchiamo di... Dai, Reina vuole fare lo shot Ecco, punto Oh, bochettate mi Eh, lo stavo facendo, no Bastava una granata, Diana, bastava una granata Che, va bo Oh, globo, è passato sinistro, ma No, il punto è che bastava Con una granata, Diana E il resto, voi potete curare tu Cioè, non è quello il punto Va tranquillo, che penso io Ehm, lo intoni Eh, morto Zara, 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 zara Questa è morto Trappi, grappi Bravissimo Good job Fluxal Ma no, rega, hanno quit No, no No, il nostro Io speravo che era quitato Io speravo che era quitato per sempre Invece di tenuto Era un avversario, comunque Perchè 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 Ma stanno parlando Sì, in voice chat No No, invece ho soltanto una cosa Uno, ma niente di che Ma perché sei entrato? No, me l'ho scordato dentro Non ti sei perso nulla Ti sei perso solo Enzo Enzo Ieri, ieri Quando sei andato Lord C'era uno Che si chiamava Enzo Enzo, Enzo Secondo di come Se io voglio leggere E giocava Anzo Allora, non ti dico Quanto l'abbiamo Preso in giro Eccolo, Pier Enzo, Enzo Enzo, Anzo Allora, se Tu la vuoi dire Italiana All'italiana Si dice Enzo Se invece vuoi dirla All'americana Si dice Enzo Chiedo, tipo C'era un wrestler Di VVW Che si chiamava Enzo Vieni con me Giocheremo in un modo incredibile Trovando Ehm Dove stai Trovando Trovando è partita quasi vinta Ciao Pier Buonasera No dai Io non trovo I game Mi dispiace Vieni con me Zitto Tanto preoccuparci Di venire Abbracciami E fammi sentire Che Sono solo Di piccole paure Allora Vieni in quel buco Vieni in quel buco Mi raccomando E non ti farmi Vai Vai rega E c'hanno pure il bastion Dai che ce lo prendiamo tutto Dai che ce lo prendiamo tutto Andiamo rega Pinn a me Pinn a te Ovviamente te l'ho visto Ehm Ma Trix Il bastion Cerco di pinnarlo Ehm Ehm Non posso più Giù rega Giù 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 Rimandate tutto Rimandate tutto Rimandate tutto C'è il pelot ragazzi Basta pusciare il pelot C'è una macchina Eh punto Però vabbè Pusciate pusciate Lassopra c'è Una simmetra da sola Che sta per morire Ma che c'è Non ho merito Vai vai rega Rega andate 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 il pelot Guarda dove il pelot Easy Easy boy Eh ti dovevo sì Se avessi usato il giorno Ditti l'avrei fatto Volentieri Va bene va bene Per ultimo un attimo Sì 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 Grup 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 Grazie Che è stata una giornata Piena Ciò Dov'è un attimo l'ulti E poi distruggiamo il bassino Spamon shields Spamon shields Spamon shields Abbiamo più shield io Mergo Vabbè Devo caricare un attimo l'ulti E poi andiamo tutti Dobbiamo fare da Dobbiamo andare Da dietro Tipo Vediamo se la... Butta, 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 butta La donna per quanto poco Attenzione critica Attenzione critica Attenzione critica Dobbiamo andare Da dietro adesso Vai Molto velocemente però Come, 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 come Io ci sto andando Andiamo ai ground, sì 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 Dai dal basso, dal basso, dov'è? Dov'è? È lì, è lì L'unica è caricare la ulti e vedere la prossima Beh sì, ma poi non ciò Ma nemmeno Dai che abbiamo solo un leader però Ok Ok La tua partita va male, usa il basso Lega il basso Eh raga Ma quanti scudi hanno? Eh due per proteggere il barbio, quello di Sim Te lo lascia perdere Eh ma Eh ma Come cazzo Ha sbagliato, va bene Ti credo C'era solo un healer C'era solo un healer Con solo un healer non si può giocare Raga dai, prete pazienza però Bene Ma che vada Forse a volte vendete anche un healer Dai si risolve subito Così no C'era un bassiolino Per favore C'è Eh Ehh Alessand Ok Ci sono momenti in cui mi sto giunto a fremmio Eh No Vaffa Ehh però ieri non mi sembra che sia andato così se non passiamo qualcosa dopo Comando Torb Vediamo se vanno le... Anza Me lo sogno Reinald da questo Sì 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 Vabbè Sì 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 Ma in realtà tu comunque dai sempre il massimo Questa è una cosa fastidiosa Sì 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 È bella per te Cos'è? Ma cos'è? Sì 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 l'entra dentro ma ci rendiamo conto quanto è pochettata va bene ah ormai bisogna andare andiamo un po' dov'è vado sul punto vado da destra vado da destra rega è morta, rega è morta, potete passare non facciamo miseria non la fate restare, non la fate restare grazie, 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 grazie non la fate au non la fate vabbè alzo le mani hands up difendiamo in difesa epic contest winston suck my dick vabbè le granate di junkrat comunque assorbe l'energia sono morto è stato c'è un amico di nuovo e c'è un amico di noi cosa possiamo fare vai tutti va a dar che la picchi sono due di questo più efficace la tiene occupata soltanto su di lei io la faccio respirare ok vediamo un po se riusciamo a vincere questa guido che pare che sia un asiatico nerd da 2000 ore ormai la cosa la bolla volevo prendermi danno per caricare la bolla per caricare migli energie capito ok pierre sopra c'è la guido c'è rain che è chargiato io vuol fare vol ME ok 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 minorities è appena non posso raga visto Stai nascosti da Guido Stai nascosti da Guido Andiamo perdendo 6 contro 1 Ma cosa stanno facendo? Stanno contestando? Non l'ho capito neri E porca miseria ma perché? Riusciamo che li seguo Ma poi le partite devono andare così Sì questa mia c'è la cava Sì E se la cava ma rega non è a livello Capito però se magari si è pulito gli scudi poco poco Ma rega Stai nascendo solo Guido No 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 Sei volto sei volto sei volto Beh vabbè ho capito rega Beh rega provateci voi Stai nascosti Poi sta cosa che lanzo dovrebbe essere avvantaggiato sulla Guido Quando mai? Non l'ha presa neanche una volta Mo l'ha presa adesso per sbaglio sicuramente Sta pure morendo Bene C'ha fatto di sé C'hanno Bastion Non ho Bastion Bastion è Guido capirai Sì Uno Reinhard Stai spooking in l'anderson Stai spooking in l'anderson Mh, notte sulle ulti! Porco giuda, dove sta? Sta invasione a loco! Lo so, lo so que lo recuerdo el puto! Dai, rega, ho dietro al mio shield o nascosti? No, 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 no! Healer, proprio healer! Eh, niente, faccio! Madonna! Ma mi uccide muoi, raga! Guarda, guarda, ma che tifa! Non lo so, sognare! Guarda, non ci possiamo anche avvicinare alla guida, è impossibile! È troppo distante! Buono! Dai, Reynard! Oh, rega, io ho creato un'altra situazione! Io ho creato un'altra situazione! Io ho creato un'altra situazione! Lanzo de Menta! A destra, a destra! Alla destra, a destra, a destra! Hey, sta insieme al pass, va bene, riga! Ok, ok, va bene! va bene sta a te li, sta a te li tu da qua, tu da qua, risolto, risolto, vai eh, mira qua you're mother, seriamente dai, dai, lui, lui, va bene, fa niente, fa niente ce la potete fare, ce la potete fare, dai buono bella, dai guida, 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 guida dove, 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 dove è morto, è ucciso, eh, sì, sì oh, bicho penso fosse la mora non abbiamo ulti, abbiamo solo la tua abbiamo solo la tua stai lì, lo so, stai lì stai lì adesso entra, non ce l'hanno, eh, attenzione c'è il reaper, c'è il reaper che è la ulti watch out for reaper via, cult l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista vado io, sono la Guido vai sul punto, vai sul punto mi sfiasco, mi sfiasco, mi sfiasco, mi sfiasco, che ho trovato mi sfiasco non c'è la miseria Nervo Nervo regà Valle Barca muta L'ha fatto Va bene Che scritto Può chiedere Tutti tre giorni Ega ma non mi posso Trovare la guido di chissà Quale rank contro Venga io ho dato tutto in quella partita Che potevo fare più No troppo Andavano avanti troppo scoperti Perché pensavo di tarla guido Aperto datemi solo due minuti che rientro subito C'è Poi volete non ti potevi neanche avvicinare C'è nel basso Venga io ho cercato di spammare Shatter più possibile C'è io più che potevo Ho cercato di creare più situazioni possibili Però più di quello non potevo farlo Quanti cavolo di punti ho tolto Erano tre sul punto Tiro lo shutter e li spazzo via C'erano bassi a un guido a destra Gli ho fatto perdere tempo Io non cosa devo fare più Dai 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 Ma a me da fastidio Perché No per vantarmi Ma li ho giocato troppo bene No li ho giocato bene Però Boh Lanzo si Omo che hanno fatto Lo live of the game Voglio dire Cioè ma vedi Il fatto è che Dici Eh ma io ho giocato bene Allora scusa Perché Perché Quello è il punto Perché continuo a giocare sto gioco Non è anche perché Se giochi bene Non vinci Quindi boh Non poteva riponere Lanzo Era inutile Io ho cercato di creare Più situazioni possibili Ma niente Tanto vale che Prendo la cambo milla Gioco healer A meno Dici sai Non mi sono impegnato Se la guido gioca frontale È quasi impossibile Che riesca Di andargli sopra Non è il punto Di andargli sopra Bastava Semplicemente Come abbiamo fatto fino Adesso giocare Sul punto Abbiamo tolto I pick Perfetto La guido Anche se fa I pick Quelli devono respawnare Sono più lontani Di notti E vabbè O li tenevamo davanti Come facevano loro Invece noi Stando sul punto C'è Ma guarda che Nell'overterm L'abbiamo persa Comunque Però Se mo Lanna Aveva ancora un boost Potevo Provare un altro shot È un po' Solo che mi sono ritrovato L'ulti di Reaper Davanti Se ne ha che sia Mantenuto Il primo Vabbè Ah damma santa Eh ma il primo Ci ha uccisi tutti Ci ha ucciso Ma pure Quando abbiamo attaccato Voglio dire Abbiamo sprecato un sacco Di fight Troppi 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 Abbiamo perso Un minuto e mezzo A gruppare Perché la gente Ti faceva piccare Ci uscivano dal muro Per il terra Da guido E venivano piccati Come degli stupidi Ce l'hai Guarda dopo Mi sta trovata Vabbè dai Voi ci rifacciamo Io qui ho poi Di trovare La tracer Grandmaster Che c'è Il monitor A 240 Hz Arriva da dietro Ma ancora vedi Già si è morta Ma speriamo Pierre Speriamo Perca miseria Speriamo Io Devo sistemare Le partite Perse ieri Quindi Su Sotto Chi tocca Eh sì E quelle sistemate oggi Quando hai messo Adesso Adesso Ciò significa Abbiamo più Faticata a fare Ma tu hai poco tempo Oggi Comunque È colpa di Svass Perché Essendo che Ha guadagnato 100 punti È inevitabile Che adesso Perdesse Essendo che Aveva vinto A pomeriggio Non so Che si è fatto 100 punti Quindi è ovvio Che adesso Deve perdere Quindi Perdiamo Ma che c'entra Sì Perché adesso Perché adesso Adesso L'abilità Da sa pure Quali suoi Account smurf Ci rimette contro Apposta Bravo È così che funziona Il sistema Se il sistema Sai che tu hai vinto Cinque partite Di seguito Ti fa trovare Gente Più forte Contro E che trova Con te Quindi è più facile Che tu perda Perché devi rimanere In quel rank Easy Quelle di oggi Si sistemano domani Giustamente Dice Pier Vabbè A parte scherzi Adesso Pensiamo alla partita Andiamo a vincere Ci siamo Guardate quel danzo Un'altra guido È un'ossessione E Dove l'anzo Andiamo Abbiamo tanto Sto lontano Stavolta Mi sembra Che questa guido Ci prenda Come quella di prima Rivedere Meno male La palla del cazzo C'è troppe volte Poca vita Non ho più shield Giuda Oddio abbiamo Luzio e Brigitte Ci credo che non ho E Nossi Luzio Non ho più No La palla No Che gel Picco cali ma calzi ferro ok facciamo se cali ster ma che tipo è cinta ottimo vabbè per ridere le pallette madonna so' più dalle giù ma che scegli di sederia finchi con una yeah eeeh 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 no 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 qua non ci siamo proprio dobbiamo dobbiamo fare qualcosa eeeh raga alla fine non sono divinità eh sono i dannati platino quanto noi perchè devono essere più forti non esiste eeeh ma che cosa non so niente di chi è ma veramente eeeh eeeh come faccio ad andare su da come faccio non puoi semplicemente eeeh guarda l'anzo guarda l'anzo a sinistra faccio la headshot eeeh eeeh ma cazzo eeeh 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 tagliare sulla guido mannaggia la miseria oh eeeh eeeh oddio la situazione è sempre dimmerta bu eeeh ma tanto viva job io me ne lavo le mani sono me che me ne lavo le mani io 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 come qui cerco sempre di focus alla ma mi sa che sono l'unico posso curarti ragazzi sono l'unico che forse come ti cerca di condossare questo è la simbra non c'è più la guido io sono disorganizzati pure noi c'è pure loro come noi non è che alla fine sono chissà che cosa semplicemente che fino adesso siamo stati più disorganizzati noi c'è una sinistra passiamo a sinistra in torretta nella casetta attenti oh è l'uccisa come oh è una zaria, la zaria non caricherà mai il graf io credo che ci siamo chancionati uno 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 c'è uno, non più nooo è caciuto one nooo è caciuto il vore nooo è caciuto il tibo nooo c'è una zaria nooo il ciò stelle Questa è una situazione che ci voleva proprio o no? Vai! Focussate! Ciao Tutte gliel'ha mangiate, tutte gliel'ha mangiate! Lo chiama stupido lui che gli ha sparato in faccia Ma che bello, siamo contenti Oh no, c'è una licea Ok, quello vuole, non torna Non torna? Bene Porti sempre persone magnifiche In che modo li crasha, mi pare che li crasha proprio il computer Ehm, ti piace più Orisa o Reina? Parcate, bisogna giocare Bastion un po' Allora, dagli e Bastion una sti ragazzi E niente Lo healer e Bastion? E ne proviamo così Non c'è più nulla da fare Non c'è più nulla da fare No, sto qua, non trolla No, sto qua, non trolla Non trolla Non trolla Sto qua e to- no, sto qua dalle porte da evitare Sto qua trolla Oh neanche trolla, gioca come gli pare Ah, gioca Usciamo, tanto non ci dà la pena E' inutile No, no, lascio, lascio I am not ready to be deactivated Dai, rega Chi sono? Non so, mai speravo Non so Speravo in qualcosa ma non so neanche io cosa Adesso Perché non c'è più nulla da sperare No ma ci fanno il culo E' qui che si crede forte Non andiamo niente a più I still have a job to do Che devo fare? Non ciò pilota da qua 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 E' che è la voia Ma come è cavolo ci fa? Non ciò pilota da qua No Non ciò pilota da qua Non ciò pilota da qua Lo ducato E' che vero E' che vero non c'è nulla da fare è inutile proprio continuare è uno brog non c'è nulla Una giocata ha fatto E' brutto è che adesso si crederà forte, capito? E' quella la cosa più brutta E' che dopo sta giocata si crederà pure forte E' un altro po' adesso forse non E' un cilocco, non vorrei E' un cilocco 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 Ho creato proprio la situazione Che sei tu il capo Esce pure Cioè quel Reinald T'ha buppato e lui ha creato una situazione Io non giocherò mai più con i tuoi amici Come tu non giocherai con i miei Cioè Che fanno paura Che c'è Che c'è Fanno paura Porca miseria Porca miseria Come prima che è andato a fare Invece di rimanere lì E' uguale Fanno paura E' un cilocco Vi cilocco Capisci tu e fanno paura Ti creano anche loro delle situazioni incredibili Tanto ormai devo prendere solo la leggera c'è nulla di malpace o te a prendere la leggera che devo c'è la miseria o io c'è la porca puttana ormai devo imparare solo Reynard e vedere come felice sarebbe finita così ma io ci sto provando a darti una mano e quello è il punto ma lo so mica lo sto prendendo con te io ci sto provando a darti una mano con tutto me stesso cerco di spammare Shatter vado healer faccio tutto quello che vuole il game dai forse vediamo di farci almeno win porca puttana forse in 5 avremmo voluto a fare qualcosa ma come con quello lì che non vuole andare bastion e vuole andare widow perchè si crede forte siamo serio o l'amico tuo non c'è posto per mettere no perchè mancherà di sicuro ma in ogni caso mancherà in main tank questo qua gioca rodo ma gioca anche Zarya non lo so ma che vado ce la do io Reynard non c'è problema c'era lui proviamo senza ma che vada ce vado io comunque devo uccidere la Mercy dai ok dai la fare da sola chi è là della porta oh non puoi cioè come cazzo pochetta male la Mercy una fare io muoio subito dall'avversario no cazzo ancora fara sei ancora devi switcha si si fa vedere lo bollo si fa vedere si nasconde questo non c'è F*** 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 Diuude Vabbè Ci avrà la ria, ci avrà la ulti Eh vabbè Oh ma come sta succedendo pure in sta partita Dai un attimo nei gruppo per favore Ma basta Ma perché vanno Perché continuano A fare come gli pare Eh ma non mi illa Va bene Sì Pure Una volta va male Una volta va male per i main DPS E l'altra volta va male perché non c'è Vabbè Sì Sì Ma perché il team Solo il team avversario è buono Perché Perché solo il team avversario è bravo Non c'è Non lo so, non lo so. ... ... ... ... Cosa? 3 healer? ... 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 Sera per salvazzarord Io per una volta ho avuto quello io con i PIL E per una volta sono stato io a fare quel PIL E' un pollo Come va F*** Hi there Brian How are you man? I'm fine thanks I'm trying to play a winning Cause I have 2 loses today 3, sorry I lost 3 matches Till now Are you? Are you man? I'm trying to play as a main tank Even if it's nerf maru No 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 Che sta facendo quello là sopra? Who's your low? Sì, come on? Prendi liva, prendi liva qua, buono. Chi ha giocato? Chi ha giocato, fiore di puttana? Chi ha giocato? Chi ha giocato? Chi ha giocato? Chi ha giocato? Ah, dillo, dai, 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 mo sono curioso, dai chat vocale proprio, sei in chat vocale, fiore di puttana. Buongiorno Sì, sto dicendo a te, ma lo sto dicendo in chat Tutto qui Idiota Sto cercando di venire Oh man, I'm trying to win I literally need to 3-0, 4-win Uhhhh Sta dicendo cazzade, sta facendo finta di essere gold 3-2 Red mages What do you mean? I'm not sure I understand Red mages Why isn't you the red mages? Bitch Will I go to the TwitchCon there? To Berlin From 13 to 13 There is a TwitchCon there in Berlin You're closer to me I guess you can Try to go there No, vabbè 90 frames No, c'è sta mare qua Oh Ah, rank matches, ok You win for rank Yes, yes Yes, yes Now I'm platinum This season I reckon Here is platinum Yes, yes I'm playing too competitive You mean You can see You can see That I'm playing comp If you watch there Where is the The profile face of Zeeva The heroes I'm playing There is a rank behind there Buona Follow su Thanks for the follow of mana here grass per follow This is the This is the The 14th season I think Yes, yes it is Yes, yes it is What's this? Justin Mora Oh, but it's ok for me I hit the gravitan Let's go Oh Just for you I'm winning for you, man I dedicate this victory to you If we kill this Lucio Ok This is dead Just a ball here I'm slow I love you I'm dead I'm dead Where are you? I'm hitting everything today Just for you Just for you Yes It is in The BlizzCon is in Berlin I was thinking to go with my friend Pierre, you're still there? Sì, è perfetto, ma è un po' più difficile per me, perché del costo di fly, da Italia a Berlino. Dai, senti, fammi fare a me che te, non flammi mai, non serve a qui te. Mamma mia che sei cattivo. Non mi sembra che non mi sembra che sia un po' più difficile, ma è un po' più difficile. Dimmi, dimmi. Vabbè, parla. Dico, scusa, ma uno che ti dice switch me, Kree, vai Reynard e giochi te, e c'hai sempre tu gold, muori una volta e ti dice che c'è lui il gold kill che non fa un cazzo. Ma scusami, va bene, c'è sempre ragione lui, è forte lui, spero che vada a bronze. Sì, 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 sarà bello. È difficile che venire là. Io vorrei, ma ho dovuto decidere cosa fare questi giorni. Perché se ho perduto questi giorni per decidere cosa fare, probabilmente il costo del volto aumenterà. E' un problema. Il ticket per la Blizzcon costa 75€. Probabilmente, se ho deciso di decidere il volto di venire e tornare, credo sia 80€. Ehm... Che faccio? Che faccio? Che faccio? Che faccio? Che faccio? Che faccio? Ti va, ti va. Let's go. Tempere. Tempere. cosa pensi di fare? se ci sono dei streamers che ti seguono e magari puoi pensi di andare è bello, grazie come sei far from berlin? in berlin non ricordo non ricordo non ricordo dove stai? la prima volta di TwitchCon in Europa perchè TwitchCon è in America in USA ah, tu vivi lì! WTF you're so far, man you're lucky IMC devo aggiornare il series record WTF ricordatemi sto morendo bellana fk sia benedetto come back come back come back come back ma perchè Winston? perchè Winston? perchè Winston? perchè Winston? perchè sono andato Genji perchè siamo una diciamo una semi-dive merci 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 è morto merci è morto focus ora focus ora qui che che buono, buono buono, 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 buono buono, 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 buonissimo peccato che non mi ha dato boostato perché se non boostava la c'era e quello perché sta andando da solo? il payload la skid rose del reaper ha le up è morto c'è morisa Gli occhi? Ma non mi serve! Why is he dead? Perché la... perché la non mi sta da qua? Ma non mi serviva! Non c'avevo la ulti! No! 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 C'è il mio! C'è il mio? 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 No! No! Non volevo svegliare le bombe! Mannaggia la miseria! Il Reaper gli ha tolto la ultima! Si ma Winston Diva non più qui! C'è il mio? E' rischioso! Ok che stiamo... Stiamo continuando a far pick Ma abbiamo avuto fortuna... Vabbè che anche loro hanno votiva! Cioè Winston... Non so... ah non so... Winston Hog! L'usata del momento perfetto! Oh va che cazzo! Non non! Nono nono non... Non c'è tutto ilices. Non c'è più che stanno... Cando potency un giocare di Rai notte... Ici oppure ! What le far Amphe adesso? C'è perché c'è questo Metara che . Unidad e Scholarle è di un sogno! Non è questo? Grazie per la visione! Grazie per la visione! Buono! Vediamo se riusciamo a prenderci Zell. Se fa dietro, low, morto tutto. E io ero lontano, non potevo aiutarti. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Pier, ci sei? Stai lì? Pier, ti senti? Per la miseria, sono le 2.25 già. What the fuck? Eh, infatti non devi andartene tu. Vabbè, è assoluto. Almeno... Cerchiamo di prenderci il 3-3. Cioè, almeno. Almeno vado a letto... Consapevole... Con la soddisfazione di non aver perso nulla. Eh, effetto. Anche se penso che tra una cosa e l'altra comunque sia vado in negativo di 2-3 punti. Devo andare io a Reynard qua, che devo fare? Vai Reyn. Vai, vai Reyn. Eh, lo chiedo a te, cioè, che devo fare? Vai Reyn, vai Reyn. Vai Reyn. Vai Reyn. Eeeeh... Io fra un po' sto diventandomi in Reynard, e la cosa mi sta molto triste. Eeeeh... Eheheheh... Ah, l'importante è che io possa giocare sempre anche io e anche i DPS. Oh sì, Rodogappiti tutto! Damage increase! Energy close to me. Calm! Buon! Però, per... Perchè? Per Diana! Oh, Dark vieni sopra! Cosa fai? Stavo essendo quell'idiota, non lo farò mai più. Oh, Dark vieni sopra! Stavo. Oh no, Giorgio I must go where I'm moving I was trying to race WTF Miracolo nella trentaquattresima strada Eh, poi hanno preso a me Eh, ma il punto lo prendono loro, è uno scambio equo No, non proprio Perché sta arrivando Moira, resisti, resisti Ho provato Devono tocciare, devono tocciare Buona, ok Arrivo Un po' Un po' Un po' Ma sono qua, Giorgio Risa Ma non è più che altro No, non sono io, Moira Un po' 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 scendami ma dimmelo prima ma l'ha visto che c'era il morto stavo là sotto una edizione perché io non guardo i miei compagni no vabbè no vabbè non ho detto niente abbiamo sentito abituato a non guardare stavo scherzando no ma perché può essere anche una nano blade ulti di roadhog che hanno buttato e graviton ma c'è come c'è che gli manca la iluna they use everything i will t-ro do you la porcata come vediamo il inglese ahia non ne ricordo no 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 oh che parte qui oh oddio rilassato gioco ragazzi non si fa niente c'è ana che gioca con non ana ana che gioca con ana ana che gioca non con ana ah non quella vedi questa qua sta giocando ah cazzo è vero liuto perchè sono andato da lui non lo so ma meno male che questo si può giocare con qui si si è vero è vero lo visto non 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 vedi ma ne non non Non, 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 non sono interessante, non sono assolutamente interessante Non, 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 non... Mago, non, non, non... non c'è nessuno 3 die 1 point? 3 die 1 point? eeeh si, non c'è nessuno che dici? cambia healer? non c'è nessuno non c'è nessuno perché mi muore la gente accanto? no no no, torno ok aspetta 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 vediamo se riusciamo a bloccarli prima della curva verso la curva, verso la curva, vediamo vediamo, 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 vediamo vediamo, vediamo, vediamo no cazzo non l'ho passata vediamo, 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 ved E' un po' di basso, ma stai un po' E' un po' di basso Giochiamo basso anche noi? Non ce l'hanno loro, giochiamo anche noi basso E' un po' di basso Si, si sta perchè basso il cristallo No, no, dico, dico Dico, io speravo in un basso Non mi ritrovo il giro a un tempo Vabbè Vabbè Un momento per piacere un po' di pazienza Probabilmente solo un momento Abbiamo tutti i counter del passio, no? Quasi tutti Adesso non ce l'abbiamo più tutti Ah, c'era già lì, no? Allora, raggiunto le 40 secondi Perchè dalle più case, eh? Adesso non lo raggiunto le 40 secondi Ha ricanto sempre santo Io ti arrivo a Berlino Poi ci siamo... Esatto Esatto Mannaggia la miseria Questo è un mio amico tra l'altro, Pier Un altro miseria Oh! Help me! L'ho sceso Ma la Fara Eh, eh, eh Come cazzo? Mi sta, mi sta po' Vedi che cerca me Aiuto! Save me! Porca miseria! Non c'era anche la Merzi Focusatela! Focus Fara Mannaggia, dai! Io pensavo in un passo Questi hanno preso Fara Sono stati troppo intelligenti Dai, ma cos'è? Che schifo, raga! Cazzo è... Un affare è bastato per rompermi tutto Facciamo, facciamo, facciamo Ma quale voglio fare? Non più Passiamo Non più Non più Non più Non più Non più Guarda! Stavo pensando di farlo Stavo pensando di farlo Stavo pensando di farlo Sono tre nozzi però Sono tante Cioè... Si, lo conosco ma... Non mai Non mai conosciuto di persona, intendo Vediamo dai, vediamo, vediamo Sarebbe il massimo se lo facesse Se lo facesse Se lo facesse Avventerebbe le vostre pila comunque Come on, they have They have the homer time, come on Let's pull them Bro Troop! Vai 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 Vai! Boom bitch! I'm on fire All evidence Supporting this claim Eh ma troppa strada abbiamo fatto Troppa 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 Guardate la bastion Lo prendo Ok Pier 1-3 stiamo ancora Mannaggia Miserio Colpa del crash Maledetto Ieri pure L'ho perso Noi il crash Forse persi Quella con la ruota Cri Cri Thanks for the follow World Lando Dove sono arrivati Dopo la curva O prima della curva Dopo Cioè Non ci sono arrivati Alla curva Ok Ma non l'ho superata No Pocket 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 Barsi E Prima Vanno I Nu No Alla D che buco che devo fare no no io ci ho provato sta pure restato ma l'ha affancato però porco giulla oggi no vabbè che ma che ma queste partite non le voglio non le capisco più queste partite non le capisco bella no 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 basta 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 aiuto quanto mi ho tolto basta ma capitano delle partite boh porco giudo capitano delle partite inespiegabili dai è la testa volta che ci avviciniamo e perdiamo di nulla ma che cazzo è ogni volta mi sta giocando il game contro i titans cioè d'accordo io consiglio di fermarti finché sei di tempo perché ho capito che ormai stasera non si può cioè puoi giocare come ti pare ma tanto giocare come cazzo ti pare ma tanto è così non andrei avanti cioè stasera ormai è prefissato chiudiamoci le due arcade e basta che ti devo dire cioè che cazzo che cosa vuoi fare più ma che cosa vuoi fare che facciamo di arcade è vero prendo la cazzo eh quale arcade facciamo ma fai una misteri lasci cioè non lo so io non lo so no è incredibile è incredibile ci sono sempre partite così c'è poco da fare a tutti i rank non si scappa sì ma non c'è un cazzo di senso che cazzo no c'è una volta dei vecchi tipo che non vuole andare quello che vuole andare quello che vuole lui perché lui è dio poi ti trovi che cazzo ci siamo trovati l'altro tizio che rompeva il coglione quanto ti dà una quantità del genere cioè vuole dire era era proprio in vantaggio la cosa più diosso è quella che la terza volta che perdiamo quando si è in vantaggio ma dai ma che cos'è ci avevamo più tempo di loro abbiamo basso sul primo punto andare preso basso e loro abbiamo perso va perché ci hanno ci sono entrati sì ma tipo abbiamo perso a quanto un metro dal payload eh anche che palla è che palla è vero che sconfitte gli danno fastidio vabbè pazienza pazienza ci faremo domani che dobbiamo dire grazie a davide per il follow mi spiace portare più ranked ma ci sono che purtroppo nemm purtroppo oggi non posso rimanere per più tempo sono già da tenere un quarto ed è decisamente tanti per me non so che ormai devo salvi presto ma già sono decisamente off off time però vabbè dai chiudiamo almeno vediamo di aprire un ultimo note box enzo lanzo mannaggia mi sono ricordato una cosa bellissima quando bastion si riparava aveva il giallo che gli girava intorno con re-fire nelle vecchie versioni credibile selene proprio lei come va selene ti apposto io ho visto mi stavi giocando uno uno c'ha uno non c'ha più uno giustizia non va a dispensare qui va come crei ok ovviamente ice cream nice due reinald ok grande eg io invece purtroppo no se ho un headshot incredibile e vabbè ma che vita è che vita è che vita è che che io io me stavo giocando così bene con bastion l'attore sono merci perchè ehi 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 where ho perso il platino mannaggia la miseria se continuiamo è peggio non credi no no per oggi va bene però domani compare si deve vincere domani io ci provo con tutto me stesso non credi quello che devo fare no no lo so ma io pure lo so è benissimo che mi racconti che mi racconti c'è la c'è la c'è il martello su Brigitte un po' di Brigitte sono i legali in effetti il bug il bug il bug il bug di Brigitte curatemi va vai vai ti sto curando fuck quanti anni ce ne hanno? ce ne hanno due ok clip clip dove sono andato a prenderlo con quel cartello oh adesso è la play of the game incredibile dove l'ho preso quant'è? no veramente è stato bellissimo è stato stupendo ah adesso c'è Guido e allora ovviamente hanno un bastion lui un bravo ho ho un bravo basta dai che lo ma Brigitte è illegale perchè io non gioco a Brigitte in re che devo mangiare la miseria? eh sarebbe un mondo migliore dovrei decidere 무대 non c'è è un livello non c'è non c'è non c'è non c'è Dai, un'altra, un'altra che è divertente Un'altra extra, ok Sì, tanto nell'ultimo Ho sclerato poco stasera Ho sclerato poco, però abbiamo vinto poco Invece quando sclero di più vinciamo Cioè ieri 5-1 abbiamo fatto Eh, ho sclerato di più ieri E ho sclerato un sacco No, devi sclerare Dove devi sclerare Ma è anche vero che mi sono preso la cammonella Prima di entrare Ah, e allora è per quello Mi è andata mia madre Perché ha detto, vai giù, vuoi giocare a quel gioco? Prendi questo Me l'ha fatto per davvero Addirittura Vabbè, dai No, stavo dicendo Adesso vorrei che prendessi Andro Infatti, che c'è? Vorrei che piccassi un bel Andro Ah! Ma è buona parola C'era l'alienbio di zucca Ma farò merci? Farò merci? Ah, veramente? C'era l'alienbio di zucca Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì Genzo, Lanzo, sei con te Sì, grazie Vieni, vieni Nooo Ma guarda questo Ma guarda Hai visto? Non ci posso credere Affancavo Dove l'ho vista quella guido? Non è importante dove l'hai vista L'importante è che hai tirato la freccia Eh L'ho tirata perché l'ho vista Sì, so perché spiego La puoi tirare anche a caso Cosa cambia Esatto Nooo Arrestatevi Stavo divertendo con Lanzo No, già Uffa Eh vabbè Tu c'hai la guido Ah No, c'è il torbio No, ma questo lì Perché torbio? Dai Ho visto un arnese in una mano Ho detto No, c'è la torbio Ah, sei lei Auguri per ieri Che ormai è ieri Non voglio perdere guido Mi uccido Ma è schifo Ma è schifo E guido Non lo voglio perdere Ah, adesso che ho fatto? Ho chiuso dentro i nostri Pur di chiudere gli altri Inizio della partita Non voglio perdere guido Mi uccido da solo Ma è schifo Hai visto? Almeno con queste cretinate Ci è tornato il sorriso Ah Adesso pensare a vedere Non ho capito nulla Ci è tornato il sorriso Dico Vabbè ma il sorriso Ti torna subito È quel momento Tempistico Che dici Che falle Perché Perché tu sai Che non perdi nulla Tu è naturale Che giochi con più spensieratezza Ma quando sai riprendere qualcosa In quel modo barbaro poi Infatti Purtroppo è così Vabbè Io voglio la mia play of the game Com'è fuggita Com'è fuggita Oh no Mardelle Ma hanno tre Junkrat Ah bene È la partita perfetta per te Dark Mi stanno giocando sul cazzo Junkrat C'è Junk Ma non credo che sia Junkrat Io Non credo che sia Junkrat 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 Mamma mia Ma quanto healing devo distribuire Che ti faremo scappare Brutto Brutto Moledetto topo Morire 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 che serve Serve lilla Oh no Non riesco a il l'arte Non riesco a il l'arte Vivo Non riesco a il l'arte Non riesco a il l'arte Non riesco a il l'arte Ma poi magari dopo il picco vogliono Ma io volevo uccidere Junkrat Infatti che Junkrat è ancora vivo Non riesco a il l'arte Non mi sembrava essere Che sarei volentieri Eccolo Bravo Mati Eccolo Eccolo E' maledetto Eccolo Morto Pillato Villo io ragazzi! Veribile! Se la portano a casa! Proprio loro! Stavo le tre io ragazzi Ho voluto bene Tanto bene Dai ho fatta con Guido prima Siii E Guido Gli ho provato a nullargli il dodge Ma sono stato il più bravo io! Ma dai! Mannaggia Sperai che mi dati un highlights piuttosto Fammi vedere Nooooo Vabbè non ce l'ho preso in live Clippatemelo Clippatemelo Saluta tutti Apro il loot box perché ve lo siete meritato Attenzione è leggendario Ho riso a leggendaria Che non mi piace proprio Vabbè Vabbè ragazzi Io vi ringrazio Per essere stati qui con noi Non è ancora il momento di salutarvi in questo modo Eh? Un mago Sono un mago Pier Ti saluto e dimmi quello che mi dovevi dire Che hai detto che dovevi dirmi una cosa E quindi non so Scrivi anche su Telegram Su Discord Dove vuoi su Twitch Sotto casa Sotto casa Dove vuoi E niente Vado a cliparmi da solo La Kill sulla Widow E ci vediamo domani Domani Molto sera Molto molto Adesso faccio un'altra sessioncina stream Forse riesco Domani pomeriggio Anche se credo Che è quasi Sia così impossibile Ma ci proviamo Dai Almeno ci facciamo Quelle tre win che ci sono mancate oggi Ciao Pier Ciao Pier Niente Stavo salutando proprio adesso E dicendoti che Per qualsiasi cosa dovessi dirmi Scrivi pure su Discord Su Telegram Su WhatsApp Sotto casa Tutto Facebook Su Twitch Dove vuoi Perché mi ricordo che avevi detto che dovevi dirmi qualcosa E niente Sono qui Quando vuoi scrivermi Sono qui Io ti saluto Con voi Ti saluto tutti Ringrazio tutti per essere stati qui E buonanotte E niente Goodbye A te mani